Il fuoco, il segno dell'altissimo, arde come il roveto di Mosè, arde senza bruciare. Ma che sta succedendo? Il fuoco dell'altissimo. Il Signore ha visitato la nostra casa. Benedetto il Signore. È il nostro Salvatore. Sia benedetto. Benedetto il Signore. Il Salvatore di Israele è venuto a visitarci. Benedetto il Signore. Gente di Gerusalemme, fratelli e voi tutti che mi ascoltate, avete visto accadere i prodigi del vento e del fuoco. Avete visto ciò che aveva predetto il profeta Joele. Io effonderò il mio spirito sopra ogni persona, i vostri figli e le vostre figlie profeteranno. Farò prodigi. Gesù di Nazareth, Gesù di Nazareth della stirpe di Davide, l'uomo che Dio ha inviato presso di voi è stato tradito, è stato crocifissimo. Ma che parlassi? Non li conosciamo. Da dove vengono? Sono i discepoli del Nazareno, ma non erano fuggiti tutti dopo la sua morte? Ma dicono che è risuscitato. Voi l'avete visto, quel Gesù condotto sul Golgotha a morire appeso a una croce. Il Padre lo ha risuscitato liberandolo dalle angosce della morte. E noi, i suoi discepoli, siamo stati i testimoni della sua resurrezione. Non era possibile che la morte lo possedesse. Ma non è un Galileo quello che sta parlando. Come mai l'ho sentito parlare in arabo? Veramente io lo sento parlare in greco. Gesù è venuto da noi all'alberangi dal peccato. Ma tu sei ubriaco. Sono solo le nove del mattino, certamente non sono ubriaco. Quel Gesù è salito nel regno del Padre e ora siede alla sua destra. Quel Gesù ha ottenuto che venisse effuso su di noi tutto il fuoco dello Spirito Santo, il dono che ci aveva promesso. Ma cosa ti inventi? Lascialo parlare. Avete visto il prodigio? Il segno? Un segno che vi è stato dato perché tutta la casa di Israele deve sapere con certezza che Dio ha costituito Signore, Messia, quel Gesù che è stato crocifisso. È Lui il Messia atteso nei secoli dalla gente di Israele. È Lui la salvezza che Israele attende. Ma allora che cosa dobbiamo fare? Pentitevi. Fatevi battezzare nel suo nome e i vostri peccati saranno perdonati. E così anche voi riceverete lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo. Noi vi annunciamo questa promessa nel nome di Gesù, per voi e per i vostri figli e per tutti quelli che invocheranno il suo nome, anche i più lontani, e che il Signore Dio nostro chiamerà. Venite con noi allora. Venite e vi battezzeremo nel nome di Gesù. Vediamo come finirà questa follia. Fratelli, il Messia ha mostrato la sua potenza. Fratelli, ci avete seguiti. Dio sia lodato. Salvatevi da questa generazione perversa. Fatevi battezzare nel nome di Gesù e otterrete il perdono dei vostri peccati. Battezzarsi è morire e risorgere. Io ti battezzo nel nome di Gesù. Ti sono rimessi i tuoi peccati. Io ti battezzo nel nome di Gesù. Ti sono rimessi i tuoi peccati. Fratello, oggi rinasci per il regno dei Cieli.